Ma no, non ci capisco più nulla qua, fermo, smettila Oh, non nessuno lo hai fatto Adesso come faccio a toglierlo, ma... Sei veramente un... Eeeh, salve a tutti ragazzi e ragazze Bentorni sul canale di... Malfe Amiche Salve a tutti Siamo qui, siamo qui Per continuare il nostro... Cos'è che facciamo oggi? Ah, per continuare il nostro Let's Go Up di... Cos'è? Che carino Che figo Il nostro Let's Go Up di Overcooked All you can eat su Overcooked 2 Ah, di nuovo pomodoro e solo verdure? Come mai il livello così facile è questo? Aia Ma scusa, ho sbattuto da qualche parte? Dove ho sbattuto? Che che perché mi dai il pomodoro? Ma c'è del fuoco Ah, ecco dove ho sbattuto Bisogna estinguerlo No, eh, non c'è l'estintore Non c'è l'estintore L'unico livello dove ci serve l'estintore ovviamente non ce l'ha messo Sì, infatti Ma si può, si può, non si può far nulla, madò Ecco perché così semplice sembrava Sembrava Sembrava, lancia le cose No, non si può andare lì dietro Vai, vai, vai Tu lanciami le cose Allora senti, uno sta là dietro Tu lancia, io taglio Adesso che va via il fuoco Siamo bloccati qua Io sto lì dietro e taglio le cose Tu fai il resto, va bene? Pomodoro No, l'ho lanciato per sbaglio Pomodoro Arriva, arriva, arriva il pomodoro Tranquillo Ma perché non mi prende le cose? Ok, allora io sto qua dietro Tu lancia le cose Che succede? A parte che cosa serve stare là dietro? Niente Pomodo Che succede? Allora, serve una zucchina Ce l'hai la zucchina? E serve un'insalata Un'insalata Oh, vado, si sposta tutto Eh, vabbè Ma che figo però E come facciamo ad arrivare lì? Qua? No? Oh cavolo, devo lanciarlo Io prima sono riuscito a... Ah, no, basta fare il giro Ah, eh Mic, anche tu che non capisci ste cose Non lo so Eh Allora, aspetta Sono insalata Sono insalata Io lavo i piatti Ottimo Io lavo i piatti Sono insalata qua, eh Bravo, bravo, bravo Adesso la prendo Poi insalata e pomo Insalata e pomo Insalata e pomo Insalata No, devo fare un giro No, niente Quello è proprio inchiappettato lì Vabbè Prendo questa, grazie Grazie micche Aia, 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 aia Insalata e pomo ce l'hai Poi sono insalata E poi insalata, pomodoro e zucchina Allora, io faccio un pomodoro Oh, non riesco bene Io faccio la zucchina Io faccio la zucchina Piatti Aiuto, lava lì Si scuote tutto Mi andavo a mitare Oh mamma E adesso Oh, ma bella questa No, vabbè Ma che figo Perché mi ha le pentole? No, vabbè Aiuto Adesso è iniziato anche altro Aiuto Ma che figo Ma ragazzi Ma che gioco è Bellissimo Gli ingredienti escono da lì Io faccio Io mi occupo dei sushi Tu fai il resto Io faccio i sushi Non ti preoccupa Però i piatti No, mi hai messo Aspetta Allora Usa tu i piatti che ti servono Ho buttato il piatto Non lo so Però mancano i piatti Io intanto faccio il pesce Il pesce Il pesce Il pesce Il pesce Il pesce Ce la fai fare tutto? Tu si ce la fai Si ho quasi finito le cose dai Me la fa mettere l'alga No Però io poi come faccio Prendere adesso E vabbè Fai così Allora aspetta Io devo lavare i piatti Togli te Bravo Io la vi piatti Poi faccio i due sushi Ce l'ho già pronti Praticamente Aia Ma Scusa Oh Te lo smetti Ho sbagliato pulsante Eh si ho sbagliato pulsante Va bene Lo dicono tutti Poi dopo Tac E ti ritrovi La saponetta è caduta Eccetera E sapete come va a finire Poi no Ma che dici Ci sono due piatti Libri lì comunque Oh grazie Dimmelo magari Allora aspetta Pensavo avessi visto Dammi un riso Che riusciamo ancora a farne uno Non abbiamo fatto nessuno Di quelli lì Dov'è il riso? No fatti due E il riso laggiù Dai veloce Lanciano nella pentola Allora aspetta Aspetta Se riesci a portare il riso Se l'ave fatta Aspetta Faccio io Faccio io Sì L'avventura Quella che si è appena conclusa Ed era solo l'inizio Avete ancora molto Da imparare Sulla collaborazione Non so per quanto Riusciremo a tenere fermo Il pane malfermo Addentratevi nelle terre selvagge Potreste trovare ricette Capaci Di saziare anche L'appetito più famerico Non mettermi fretta Però ha ragione Dovete andare E fatemi andare Allora mostratemi Il vero significato Del lavoro di gruppo Un gadget che abbiamo trovato No il cane Volevo accarezzare No non la carezzi Tu non me l'hai mai fatto accarezzare Nel primo Adesso non lo carezzi tu Così impari 2-1 Vai Lancia Ma va Ma va Sono ingredienti Quindi quelli tagliati no Cioè quelli cotti no Ah se devono lanciare la roba Devi lanciare Ah che spettacolo Oh devo lanciare io Che bello Ed anche io Quando sono tagliati Ma non ci hanno spiegato Sta ricetta però Mernale che la conoscevamo Già dal primo Non l'hanno spiegata Ho sbaglio Ho sbaglio Passami pure il pollo No ma il pollo è nuovo Però è facile Però è partito già il tempo Bellissima la musica Oh madò Quando siamo lontani È al limite proprio No eh Guarda lì Ce la fai tranquillamente Tu sei scarso Però ce la fai Allora aspetta eh Dove il piatti Meno male che non c'è da lavare i piatti Almeno quello Signori miei Almeno quello To Ops Ops To To Ops Qua c'è del pollo Pollo e patate Eh beh Buono pollo e patate Devo dire che Si trattano bene I signori qua Puoi da fare un pollo E un patata sola Un patata Eh sì È una tua citazione Quella ormai diventata No ho buttata giù Sei veramente una cosa Guarda No ho buttato il pollo Ma sei veramente una cosa Guarda La cosa vuoi da me Ma non ti permette Io sono forte Ho fatto solo una citazione Mica come te Allora pollo pollo Io ho tagliato tutto eh Oh madò Tiè tiè Così non rompi No io ho tagliato tutto Io ho fatto tutto Io faccio tutto io Tu hai solo da tagliare Già che è facile così Poi non riesco mai a prenderlo questo Ho solo una preoccupazione io Cioè Tagliare e lanciare Senza far cadere Eh già Che non è facile Una patata Una patata Una patata Perfetto Devo dare un pollo però Ma no non ci capisco più nulla qua Fermo Smettila L'hai messo uno dentro Adesso come faccio a toglierlo Ma sei veramente un Posso dire che sei un scemo Un Non riesco Non me lo fa mettere E non sarà cotto Ma porca miseria Ma questo è cotto? No Ma non capisco più niente È colpa tua Non è che se non riusciamo a fare tre stelle È colpa tua È colpa mia Eh sì Sì tu che fai i piatti C'è un cestino di usalo Eh grazie Non l'ho visto Non capisco più nulla Grazie a qualcuno Che ha Ha deciso di farli simpatico Guarda non sto capendo più nulla Guarda che casino Che c'è Guarda Mamma mia Ecco Non l'abbiamo fatto tre stelle E certo Tu fai lo scemo Ma cosa ho fatto io? Ma non lo so Ho semplicemente tagliato la roba Vabbè raga È l'unico livello che non faremo tre stelle Perché lui Non sa Non è No lui Ma io Lui fa così Se voi ci cambiamo Faccio io la parte difficile No eh sì Tu la parte difficile Io che posso fa qua Boh Dobbiamo fare pasta Con i Metti il pesce a cuocere Chi gamberi Chi gamberi Che pesce Ok pasta La pasta l'ha già fatta Il pesce a cuocere Il gambero cuotto Perfetto A pasta Altra pasta Perfetto Qua c'è della carne Che penso sia La metterla E beh penso proprio di sì Dovui mettere la carne Scusa La ristola Non si può più andare Ah no Siamo fregati Siamo fregati Diciamo Ah quello lì è finito Quanto era il punteggio? Se vuole porto io Eh portalo tu però L'altro con la carne Lo stai già facendo Pasta che ha la carne È un po' strano Pasta in bianco Che ha la carne Però se a voi piace So che a voi piace Bravo fai bene Lanciami Lanciami la pasta Lanciami la pasta Altra? Lanciamola sì Bravissimo Bravissimo Voilà Guarda che chef Poi lanciami cose tagliate Che le cuocio Eh lo so Che non potevo accedere Che ho da fare qua Abbiamo i gamberi Ok gamberi Gamberi pesce Lancia lancia tutto Io lo faccio Non ti preoccupa Sì io intanto taglio Poi te lo lancio Perfetto Ah non abbiamo neanche da lavare i piatti Vabbè ma sto No Dove è andato? Cosa? Ah è andato nel Sta fuggendo Le cose Ma Di nuovo inizia a non farmi capire nulla Tu eh Guarda Fammi di nuovo incazzare Mamma mia Cioè To Mannaggia a te Non capisco Questo è cotto Che è? La pasta che dobbiamo fa Pasta con un uovo con gambero e pesce Ok No il gambero lì è da buttare via Vabbè Come è da buttare via? Ah no L'è fritto Va bene Che dici? Non lo so se va bene Non dico niente Come? Non importa Che cosa ho blatteri? Lanciami la pasta per favore Ah la pasta che No Doppio gambero no Pese Poi mi serve una carne Se hai voglia di darmela Una carnina Poi il piatto pronto Lanciami la carne Perfetto Io faccio già un altro piatto di pasta Metto questa a cuocere Questa deve cuocere La carne la metto in padella Altra carne no? Altra carne Qua ho un gamberetto già pronto Che non so cosa farmene Però lui è già pronto Almeno lui è lì Quando sarà La carne adesso non posso più prenderla Per un po' Eh perché non puoi prenderla? Eh perché devo aspettare Cerca di giustificare Quando fai qualcosa Non dirmi solo Sta per scadere un piatto Eh ho capito E' pronto Vai prenderlo Altra carne la metto subito in padella Se vuoi pasta? Sì se me ne dai una Intanto la cuocio No Ma non mi serve più carne in realtà Sì che mi serve No mi serve un pese Ah ok dimmelo Eh dimmelo Guarda se devo pure dirti quello io Allora cosa ancora devo fare Eh beh Eh capito Vesce te l'ho messa Grazie perfetto Questo dallo Si incazzano Vai veloce E il gambero c'è già La pasta è già pronta qua Perfetto Mi serve altra pasta E mi serve anche un pese Da mettere qua Metto ancora un altro gambero L'hai dato quello con la carne? Sì Perché non me l'ha segnato? No ce n'è un altro Eh non lo stiamo facendo io Eh infatti io mi chiedevo come mai Ah Vedi che ti avevo dato Pensavo che Boh io Te l'avevo dato Vabbè Dai questo con il pesce Così facciamo punti Magari facciamo lo stesso tre stelle Anzi sicuro E vedi tre stelle E facciamo Kevin 2 Allora Allora tu io mi dedico alle cose con la farina Ah no tu fai le cose con la farina che ce l'hai lì Io faccio il pesce e le carote e la carne Carne fai Taglia carne Poi una carne e farina La carne e farina stai facendo tu Carota e farina Dopo serve un gambero Non so Oh no Sì ma tipo Spostati Devo mettere Madro Sì però facciamo così Stiamo Ognuno si prende i due I due Di uno all'altro Quindi adesso tu fatti quelle due cose lì Io faccio quelle cose che sono qua Quindi adesso mi occupo io della carne e farina Tu fai il resto La macchina lì che è in mezzo Cioè siamo proprio in mezzo a un incrocio qua Un ottimo Devo dire ottimo posto per fare una cucina Che fai? Devo dire veramente che è un ottimo Dove che si deve dare acqua? È un ottimo posto per fare una cucina Quindi cosa dobbiamo fare? Quindi questo qua Non l'hai fatto questo? Eh sì è a posto E devi metterlo in un piatto Cosa è? Non l'avevo ancora fatto Mannaggia te Allora farina e gambero Farina e gambero Faccio io Tu lava i piatti Farina e gambero Ti vedo un po' spaisato Tranquillo Non capisco cosa devo fare Io sapevo che devo fare carne E lo so ma cambiano i cosi Eh vabbè ma ci spostiamo noi Eh no ma perché ogni tanto si incrociano Vabbè Come te pare Tu intanto lavi i piatti Io faccio questo Do questo Quanto era il punteggio? Non mi ricordo Cosa dobbiamo fare? Cosa stai facendo? Sto facendo il gambero Anzi è pronto Ok allora fai la pasta Il gambero è pronto Lo vado a mettere qua La pasta e la carota Ok carota con la farina fai tu Io faccio il pesce Ok Gambero pronto Signori gambero Quella carota la stai facendo tu Io sto facendo il pesce Fai tu quello con la carne? Faccio quello con la carne E io faccio quello con il gambero Allora dopo Dove è la carne qua? Ok quello è cotto Aspetta vado a prenderlo Prima di me si incazzino C'è anche da lavare il piatto lì E se lo lavo un attimo Già che sono qui Poi c'è un pesce pronto da dare Già dallo tu La carne la fai tu La stai già facendo tu Io sto facendo il gambero Dov'è che l'ho messo? Qua il gambero c'è già Devo solo mettergli la farina Ok Farinazza Tie e gambero tie Poi dopo c'è carota Faccio la carota Ok io lavo i piatti Ma i piatti sporchi dove sono? Ah qua vengono qua da soli Dov'è la farina? Dov'è la farina? Basta Basta Scusatelo è un po' un casinista Musicista Vai tu con la cagarna Io do questo Sì Eh mi sa che riusciamo a farne solo più Sì se vuoi faccio un pesce così per fare punteggio Tanto perché posso Se riesco a Mi lo fanno prendere il pesce Mortacci Guarda sto scemo Levati dalle Dovresti essere a lavorare Non qua fare il cretino No non ce la faccio Ah manca un piatto Manca un piatto Ce l'hai lì il piatto no? Sì è che pensavo volessi fare anche il pesce Ah no ce la faccio Facciamo Desci a dare giusto quello Veloce Veloce Ci riesci Ci riesci Vai Eh come fai? Potrei andare più veloce Ma come fai? Tre stelle Tre stelle Easy peasy Lemon squeezy Va bene ragazzi Allora direi che per questo episodio può essere tutto Ciao ciao alla prossima Allora prossima